il gabrone ci ha dizzato basta ma questo se disse da solo se sta un po' a collare andasse a debitasse a spendere una cosa seppe non giocare ci deve ci deve di sa deve sparare le sue cazzate spara cazzate ancora di più spara cazzate approfusione però almeno ti risparmi i soldi che butti nel casino con la classica tecnica all'argomento fantoccio ma lui magari ci dice una cosa nel merito di un'altra discussione diciamo ah parli te che sponsorizzi il casino quindi vinci sempre perché l'argomento fantoccio ti porta a spostare attenzione bello a me piace mi piace comunicare in maniera scorretta quindi lo faremo qualsiasi cosa risponderemo di parli te sei col casino ti sei perso tutti i soldi giusto giusto facciamolo facciamolo un altro discorso c'è un'altra roba che mi fa incazzare del modo subdolo che hanno di vivere twitch e di ragionare su twitch chat di streamer il discorso gambling il discorso casino quando è che ritornano fuori i polentoni sul casino quando è che che il cerbero podcast si mette a fare le morali in live dicendo che noi sponsorizziamo il gioco d'azzardo certo bru è tutta una sponsor a gioco d'azzardo se gioco d'azzardo è normale lo diciamo sempre quando è che 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 il cerbero ritorna a rompere il cazzo sul casino quando ritorno a fare un po di numeri quando ritorno a fare un po di spettatori quando il gambrone ritorna a fare magari 4.000 5.000 spettatori a pausa è vero è vero è vero però no no però è vero è perché noi non parliamo mai del gabbrone ma come supera una soglia che è dai 4 ai 5.000 diciamo no dobbiamo assolutamente parlare del gabbrone noi ci abbiamo perché la live deve essere incentrata su quello perché comunque abbiamo un software praticamente che c'è ci sono un allarmetto quando lui supera i 4.000 noi subito la interveniamo ma secondo me a lui farebbe c'è mo veramente ma essendo veramente o subdoli o vabbè a lui paradossalmente farebbe comodo se morri cominciassimo a parlare quello che fa lui live no cioè noi abbiamo parlato del del casino quando fu quando scoppiò il caso era proprio un argomento di interesse generale per tutta la piattaforma per tutta la community l'abbiamo praticamente spolpato abbiamo detto quello quello che ne pensiamo abbiamo fatto live su live su live è successo un aggiornamento importantissimo da parte di twitch a riguardo abbiamo coperto pure quello mona certa cioè abbiamo pure ne abbiamo parlato pure ultimamente con toni tubo che cazzo vuole il gabbrone si sente un po solo e vuole che parliamo di di lui sarà piangendo poi ovvio che tu parli del discorso sponsorizzazione casinò rispetto a una persona che ce fa dei numeri e quindi la tua intravedi un un pericolo per la comunità perché questo fa facendo tanti numeri che dove parlate quei dissi che stanno e falliti ingoblinico con 30 spettatori a facendo la cosa che teoricamente se fa soltanto perché te dovrebbe portare numeri che questa cosa è il casino così faccio i numeri stai là con 15 spettatori dieci ore al giorno fa così fa oddio il crazy time di me li dobbiamo parlare già sono morti che spari su un cadavere porco due parliamo di chi c'è una rilevanza ovviamente perché rappresenta un pericolo dell'emulazione ultimamente diciamo che c'è stato pure poco da dire al massimo delle prese per il culo servite su un piatto d'argento non penso che abbiamo detto chissà cosa ma pure nella live con toni a fine c'è la parte diciamo gabbrone abbastanza lui ha ritirato fuori ditelo che sponsorizzare gioco d'azzardo e anche solo giocarci ma l'abbiamo già detto 46 mila volte ma che veramente dobbiamo diventare un servizio pubblico che come è arrivato la rotina tutti i giorni dobbiamo ripetere quello che pensiamo è l'ombrellaio fondamentale no l'abbiamo detto io ho detto quello che dovevo di tutti abbiamo detto quello che dovevamo di si sente solo secondo me è solo questo i mesi scorsi quando ancora stava 2-3 mila sera non mi pare che nessuno facesse la morale su nessuno sulle sponsor del gioco d'azzardo su twitch tutta l'estate fino all'ottobre quando twitch era popolata da streamerini che giocavano al casino e tenevano il link pronto per spingere il loro comparatore e non sponsorizzare il gioco ma comunque una sottoforma di sponsorizzazione del gioco legalizzata non rompevano il cazzo a nessuno perché perché non rompevano il cazzo a nessuno perché non rilevanti e quindi erano soltanto un danno per loro stessi e non per la community ma stavamo a perdere tempo ormai penso sia esaurito il link ma sempre le solite cazzate mamma mia poi non parlammo solo del lui io no quando l'ultima cosa è stata su toni tubo non su delui infatti oltretutto ormai si è capito come funziona abbiamo fatto 3.000 live ha capito lui che ci gioca i stipendi è incredibile noi ti giuro sta 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 ancora dentro tutta quella cloaca del del gioco d'azzardo ne posso volentieri farà meno tu gelo hai linkato sta cosa no essere a me